Quando l'essi libro di Giovanni Ginaldi, I Tini della Felicità, ebbi la sensazione di leggere una fiaba, qualcosa che oggi... Cos'è che è successo il 23 marzo del 50, a San Severo, in provincia di Poggio? Nel 46 si creò questo vasto movimento nazionale di solidarietà coordinato dai partiti della sinistra, ma anche da altri. E Americo Marino e Dermilia Trancredi sono due dei 70 bambini di San Severo che in un certo senso non riuscirono a tornare. Quindi abbiamo provato a raccontarvi alla fine dei conti alcune storie, comunque tutte vere. Grazie. 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 Grazie.